Tireremo a sinistra, direzione Palazzo. Sta rientrando un atleta. Sta rientrando un atleta, tra poco ai dorsali. E' entrato un atleta su Stichelli, dorsale 98, 9,8. Siamo ai 300 metri, dorsale numero 98, ancora esce, lascia sui pedali Stichelli. 98, 100 metri all'arrivo. Un ritiratore, Gianni, Lucic, Giu, Roger, Stichelli, a seconde successo federale. Adesso, secondo posto, Lanzano, quindi, Piacchi. Lanzano, Piacchi. Sì, giù, 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 giù. Sì, giù, giù, giù. Sì, giù, 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 gi